Domenica 4 marzo si vota per le elezioni politiche. Si eleggono la Camera e il Senato. Si vota un solo giorno, domenica, dalle 7 alle 23. Ricorda di portare con te un documento valido e la tessera elettorale. Per votare potere al popolo devi indicare con una X il nostro simbolo. Puoi apporre anche una X sul nome e cognome del candidato, oppure entrambi, simbolo e candidato. Non puoi votare sulla stessa scheda potere al popolo e il simbolo il candidato di un'altra lista o coalizione, altrimenti viene annullata. Insomma, per non sbagliare, barra solo il simbolo. Per entrare in Parlamento dobbiamo superare la soglia di sbarramento prevista dall'attuale legge elettorale, che è al 3%. Ce la possiamo fare. A potere al popolo serve il tuo voto, ma anche e soprattutto la tua partecipazione. Il 4 marzo vota e fai votare potere al popolo.